Io Riparto Live Lab, l'iniziativa presentata oggi in Camera di Commercio a Pescara, un'iniziativa che va nella direzione della digitalizzazione. Vogliamo spiegare questo evento come nasce? Intanto nasce una proficua collaborazione e approfitto per ringraziarne con la Camera di Commercio di Chiedi Pescara che ha appoggiato l'iniziativa della nostra associazione di promozione sociale, dal nome appunto Io Riparto. È un'iniziativa che abbiamo cominciato nel 2020, è quella di raccontare le best practice, è quella di raccontare cosa succede nel mondo del digitale, nel mondo dell'innovazione tecnologica. Nel 2020 abbiamo fatto cinque puntate, quest'anno ne faremo quattro dedicate a quattro temi, grandi temi che sono la formazione, le aziende, le competenze e i cittadini e le facciamo attraverso un evento in streaming e non solo perché ci sarà la possibilità di iscriversi a una piattaforma e all'interno di questa piattaforma avere tutta una serie di attività che si concretizzeranno di fatto nel poter interloquire con i nostri ospiti in maniera diretta, quindi porgli le domande direttamente e parlare con loro. Un'iniziativa, quella presentata questa mattina, pienamente condivisa dalla Camera di Commercio Pescara Chiedi. Sì, assolutamente, perché va nell'ottica di continuare a diffondere il tema della digitalizzazione non soltanto verso l'impresa ma verso la comunità territoriale. Dobbiamo segnalare che proprio è il Paese che è in ritardo da questo punto di vista, in questo cambiamento epocale, perché l'indice DESI, che è l'indice a livello europeo della digitalizzazione a livello sia economico che sociale, pone l'Italia al quattro ultimo posto, al vinticinquesimo posto, quindi su questo c'è molto da lavorare. Siamo addirittura all'ultimo posto per quanto riguarda le competenze digitali. E ci siamo accordi proprio in questo anno, così drammatico, quando sia importante avere una pubblica amministrazione che è in grado di dialogare con i cittadini a livello informatico, online, proprio per le difficoltà che abbiamo avuto in questo anno a andare negli uffici. Chiaramente dobbiamo lavorare per superare quell'approccio fisico a cui tutti noi siamo abituati, ma che ormai abbiamo visto. Questo periodo ci ha imposto di superare, sicuramente da questo punto di vista abbiamo visto che abbiamo fatto tutti un certo passo avanti, però c'è ancora molto da lavorare. Abbiamo il punto di imprese digitali, il PID, che ha lavorato tantissimo in questo anno, proprio da questo punto di vista. Sensibilizzare, informare, formare i giovani e le imprese. Abbiamo visto che le nostre attività sono sempre più partecipate. C'è quindi una grande voglia di imparare e di fare quel salto di qualità che è sempre più necessario in questo mondo.